La sostanza di una questione che proprio per il suo valore formale è una questione eminentemente politica. Sui lavori della Commissione dell'Aggiunta, lei ha mostrato di non avere consapevolezza, di non avere consapevolezza, di non avere consapevolezza, di non avere consapevolezza, di riconvocare, secondo la detesa di uno dei gruppi più importanti del Parlamento, i lavori dell'Ufficio di Presidenza mostrano di voler chiudere frettolosamente una questione formale e politica che per l'appunto non può essere chiusa così frettolosamente. L'Espio Presidente sarà ricordato come il Presidente del Senato che ha consentito, nel caso dell'elezione e del voto palese, che ha consentito e permesso la violazione al giro dei principi più caratterizzanti della vita parlamentare del nostro Paese. Signor Presidente, quando si diventa Presidente del Senato, così come i Presidenti delle due alte istituzioni, si diventa uomini ed esponenti politici e istituzionali sopra le parti politiche. Lei non ha dimostrato in questo caso di essere sopra le parti politiche. Lei ha dimostrato di essere partigiano, così come ha dimostrato di non avere mai dismesso abiti, stile, metodo di un magistrato in quest'Aula, mentre stiamo discutendo del futuro del Paese, stiamo discutendo di valori, di questioni, di viventi, della vita politica del nostro Paese. Le ripeto, Signor Presidente, lei si ha ricordato come uomo di parte, come un partigiano. E' un'accentata. Non ha davvero la...